C'è sempre un momento per combattere e uno per meditare. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Chi ottiene grande soddisfazione dal suo cammino, spesso subisce l'invidia altrui. Ci sono tanti nemici nascosti nel mondo. Credo di poterti scoraggiare, di poterti piegare, spesso attraverso il mezzo subito. Non permettere che l'ombra domini la tua luce. Espanditi, vai oltre la superficie. Illumina l'oscurità. Passi. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti